Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video ragazzi siamo su clash royale Ragazzi volevo solo dire che hanno fatto l'aggiornamento Hanno fatto il bolo del clan in corso perché partecipare al prossimo bolo del clan Non lo so il ragazzi il perché però ragazzi hanno arrivato l'altro torneo Mi dispiace però fanno fra tre giorni, fra due giorni fanno Sfida al strigone elettrico con 12 vittorie ottieni lo strigone elettrico Ragazzi ora leggiamo tutto Crea un mazzo con lo strigone elettrico per questa sfida speciale sono disponibili tutte le carte Ogni vittoria aumenta il tuo premio a 12 vittorie Riceverai il primo premio e lo strigone elettrico E poi le lezioni di cose Quindi ragazzi mi sa che bisogna creare un mazzo noi Che ci sono tutte le carte, bisogna creare un mazzo noi Bisogna creare, credo E anche lo strigone elettrico perché la sfida è quella Poi non lo so Poi hanno fatto l'aggiornamento dei bauli Un po' E hanno fatto l'aggiornamento che costa meno Che il mazzo costa meno Che questo costa meno perché ora Costa 7000 Forse se mi arrivo a 7000 possiamo shopparlo insieme Poi hanno fatto questo mondo E hanno fatto la nuova arena L'arena selvaggia che lo rilasceranno tra 24 giorni Io so già le carte Però non vi spoilerò niente Poi faranno a breve una nuova carta di arena 6 Non è leggendaria Quindi possiamo forse trovare La torneata non l'abbiamo nemmeno trovata Però facciamo una battaglia Non è solo questo video per parlare Allora giochiamo anche Giochiamo anche Non voglio Non ci credo Ragazzi Forse Noi andiamo in arena 7 Se vinciamo Ragazzi uccidiamo L'alchiria E trovo l'alchiria E sarà l'alchiria Quindi Può fare un vlog con il mio amico Fare il vlog ragazzi Quindi due video Oggi Giove ho fatto Il video Ieri tre video Insieme Messe insieme Proprio Davvero Poi Giove poi Con il canale Per dirvi Lo chiuderò Quando avrò Massimo E sta giusto Lo so che forse a voi Non mi importa un cazzo Però Io non ho fatto per sicurezza Nel megan's Gare cosa cazzo lancia Le bombe Aspetta Valkyria Tranquillo 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 Vuole fare danno Tutte e due le storie Già ho capito Già ho capito Che vuole far danno Tutte e due le storie Non mi fa' aca la torna, aca la torna e aca la torna e aca la torna e aca la torna sarebbe bello vincere però ragazzi almeno abbiamo fatto una battaglia bella ragazzi questo video può finire qui mettete i pollici in su commentate e condividete ciao al prossimo video ciao ci vediamo al vlog di oggi